Se hai un figlio che frequenta la scuola, probabilmente ti sarai chiesto ma è possibile che faccia così tanta fatica a mantenere l'attenzione? Perché sembra sempre guardare in giro quando io gli sto parlando o quando l'insegnante spiega, ma mi starà ascoltando veramente o starà pensando ad altro? Ma è normale che sia così o potrebbe avere delle difficoltà d'attenzione? Se ti sei mai fatto questa domanda, andiamo a vedere insieme più nel dettaglio che cosa vuol dire davvero avere delle difficoltà di attenzione. Ciao, sono Paola Saba e sono una delle fondatrice del progetto Viva la dislessia il metodo di riferimento per le difficoltà d'apprendimento in Italia Oggi voglio parlare con te di quelle che sono le difficoltà di attenzione un tema di grande attualità e di grande interesse soprattutto se hai un figlio che frequenta la scuola si sente tanto parlare di difficoltà di attenzione fin tanto che molti genitori mi dicono ma com'è possibile che mio figlio faccia così tanta fatica? Com'è possibile che sembri sempre distratto? Non sarà il caso di portarlo da uno specialista per capire se ha davvero delle difficoltà d'attenzione? Beh, devo dirti la verità spesso si usa questo termine anche un pochino esagerando non ci sono così tanti bambini che hanno delle difficoltà d'attenzione che possono essere diagnosticate secondo quelle che sono diciamo così le regole ufficiali per le diagnosi che cosa deve succedere perché un bambino possa avere una diagnosi di difficoltà di attenzione? Questa particolare forma di difficoltà che viene chiamata tecnicamente disturbo quindi un disturbo da deficit di attenzione per essere valutata richiede alcune caratteristiche particolari primo, ci devono essere una serie di comportamenti presenti che devono ripetersi per almeno sei mesi questi comportamenti devono essere presenti all'interno di una lista una lista che ne evidenzia nove di questi nove devono esserne presenti almeno sei ok? quindi non possono essere comportamenti qualsiasi ma devono essere all'interno di una lista specifica che adesso vedremo insieme si devono ripetere per almeno sei mesi e in almeno due contesti cosa vuol dire questo? che se mio figlio insieme a me a casa è assolutamente disattento mentre a scuola è perfettamente concentrato e la stessa cosa succede per esempio durante le arti marziali probabilmente non c'è una difficoltà d'attenzione ci devono essere almeno due contesti diversi in cui questi comportamenti si manifestano e cosa importantissima devono emergere prima dei sette anni ecco perché molti ragazzi oggi e tanti adulti pur avendo difficoltà di attenzione non hanno mai trovato riconosciute le loro difficoltà perché probabilmente non si sono manifestate o non sono state viste al momento giusto e quindi non è stata potuta fare una diagnosi in età abbastanza giovane quali sono le caratteristiche che riguardano le difficoltà di attenzione? prima, spesso fallisce quindi mio figlio fallisce nel prestare attenzione soprattutto nei dettagli magari compie errori di distrazione ok? succede nei compiti a scuola o se sono un adulto anche nel lavoro oppure in altre attività ok? quindi non riesce a prestare attenzione e fa degli errori di distrazione secondo spesso ha difficoltà nel sostenere l'attenzione per esempio in compiti o attività che siano abbastanza prolungate quindi disattenzione 1 attività di attenzione prolungata 2 numero 3 spesso sembra non ascoltare quando gli si parla direttamente Filippo? 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 ok? numero 4 spesso non segue completamente le istruzioni oppure incontra difficoltà nel terminare compiti compiti che possono essere lunghi oppure compiti che richiedono tante piccole istruzioni in sequenza quindi quarto comportamento passiamo al 5 ha difficoltà ad organizzare compiti o attività varie a programmare dal fare la valigia all'organizzare l'uscita con gli amici a fare la lista della spesa si perde all'interno del supermercato con tante cose e non riesce a seguire l'ordine spesso evita oppure prova avversione o proprio si tiene lontano da compiti che richiedono uno sforzo mentale sostenuto e andiamo avanti numero 7 spesso perde materiale in giro materiale che può essere necessario per i compiti o per altre attività per esempio perde i giocattoli in giro li lascia dai nonni la giacca quante giacche ho comprato quest'anno continui a lasciarle in giro punto numero 8 è facilmente distratto da stimoli esterni guarda mamma fuori dalla finestra è appena passato un aeroplanino sì ma Filippo ti stavo parlando e infine ultimo punto spesso è sbadato sbadato nelle attività quotidiane gli cadono le cose scivola va a sbattere contro gli oggetti ok? quindi 9 sono i comportamenti che si possono presentare almeno 6 di questi comportamenti devono essere presenti perché si possa parlare davvero di sintomi di una difficoltà di attenzione e devono essere presenti per almeno 6 mesi e devono essere individuati prima dei 7 anni spero di esserti stata utile se vuoi saperne di più sulle difficoltà di attenzione iscriviti al nostro canale youtube se non l'hai già fatto vieni su facebook nel nostro gruppo viva la dislessia e visita anche la nostra pagina e il nostro sito www.vivala dislessia.com www.vivaladislessia.com